Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo ha eseguito, all'alba di oggi, mercoledì 29 novembre, l'arresto di 25 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dal procuratore del Tribunale di Lucera, Domenico Seccia, sono partite nell'ottobre del 2011. L'inchiesta riguarda ben tre regioni, Puglia, Molise e Abruzzo. Quelle che vi mostriamo sono le immagini realizzate durante gli arresti di stamane dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.